di Carlo Mazzina, Massimo Perpulle eccolo, grazie Massimo grazie perché lo so che sei impegnatissimo grazie a tutti Massimo, togli il microfono, un teatrante non lo usa un teatrante non lo usa ma non serve, mi serve il microfono adesso tu adesso tu devi aiutare Massimo, ma c'è eccolo, ma però mi serve il microfono ma Massimo, mi serve il microfono mi serve il microfono mi serve il microfono allora, Massimo ti prevedo una nostra amica organizzatrice di venti del Roma di Ludic e del premio Anna Magnani che tu conosci benissimo, Francesca Prigianelli quanti amici ho avuto, quanti amici si parla di Roma, si parla di Anna Magnani si parla di Massimo e due premiati ultimamente grazie 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 Grazie.